... Fine partita al Comunale di Nizza, tanta amarezza da parte della Valdini, siamo nello Miano allenatore, una sconfitta che ovviamente non era nelle previsioni? Una scopetta che non era nelle previsioni neanche meritata perché i ragazzi credo che hanno dato tutto nonostante la posizione in classifica, quindi psicologicamente non si gioca con tranquillità, però ai ragazzi c'è poco da riproverare tranne qualche piccolo episodio del singolo. La squadra ha interpretato bene la partita, soffrendo un pochettino solamente a metà del primo tempo, non soffrendo completamente tutto il secondo tempo, psicologicamente è una partita scontro diretta, una partita guerrita, si gioca contro pure una buona squadra, sia dal punto di vista tecnico, organizzata perché Luca è un grande allenatore, messa bene in campo e caratterialmente tosta. Ma i ragazzi nostri non sono rimasti indietro in niente, purtroppo siamo stati penalizzati perché il pari credo che alla fine sarebbe stato anche giusto, anche se loro hanno avuto due azioni nel primo tempo dove è stato Bravo Simoni e poi l'episodio del rigore. Noi abbiamo avuto un gol annullato nei primi minuti, la palla era nettamente entrata e l'assistente e l'arbitro non se ne sono accorti, non hanno avuto il coraggio di decidere e dopo di che siamo stati super penalizzati da questo episodio finale perché è vero che il ragazzo che è entrato, su cui poi è stato causato il rigore non era in fuorigioco, però il 9, se non sbaglio era il 9, si è intromesso nell'azione, prima l'assistente aveva sbandierato, poi non ha tirato giù la bandierina perché quello che entrava era nel fuorigioco, ma il 9 ha continuato a fare l'ostituzionismo e si vede chiaro dalle immagini che ha bloccato il nostro giocatore. In più sono stati anche tratti in inganno perché una volta che si alza la bandierina, giustamente sbagliando in quel caso, si sono un pochettino fermati. Poi un avanti a cinquesimo. L'arbitro ha fatto del suo, però non è stato abbastanza collaborato? Sicuramente sì, ripeto, con lo stesso assistente nel primo tempo ne avevamo fatto call due volte e la palla si è sbattuta, penso dentro tutte e due volte, e dopo tre minuti, quattro minuti facevamo call e la partita sarebbe cambiata. Invece abbiamo dovuto inseguire e in questo i ragazzi, devo fare un elogio perché non si è perso la testa, anzi si siamo messi a testa bassa per cercare di riprendere la partita, con tutte le problematiche e le lacune che abbiamo, e quindi credo che il pari sarebbe stato il risultato più giusto, avremmo tentato alle distanze dalla Messana, invece in questo modo ci hanno raggiunto. La classifica non ride, ma soprattutto è dura a ripartire, visto che avete avuto anche degli espulsi e quindi gli squalificati, soprattutto nella parte del reparto difensivo, che è quello cruciale, soprattutto quando si va fuori. Sì, certo, anche l'episodio dell'espulsione di Agatino a riposo non ci aiuta, perché già siamo anche pure contati nel reparto difensivo, ma su questo non possiamo fare altro ormai, le decisioni degli arbitri sono state prese, la partita l'hanno vinta loro 2-1 e Agatino è stato espulso, quindi ora dobbiamo solamente metterci di nuovo sotto, come abbiamo fatto in queste settimane, e prepararci per un altro ennesimo scontro diretto contro il Taormina, perché per noi ormai sono tutti scontro diretti. Che recuperate? A livello di... no, tutto l'organico oggi mi pare che era tutto presente, non mi pare che mancasse... C'è solamente un ragazzo mazzullo che io non ho mai visto, che sta rientrando dalla fisioterapia. E piano piano cerchiamo di fare crescere la condizione di qualche ragazzo che si era aggregato da poco alla squadra, tipo De Salvo, che veniva da Squalifica, De Messe si è avvicinato ora, Gaetano Romeo si è avvicinato ora. Per il resto la squadra penso che abbia lottato, non abbia fatto grandissima qualità, però in questo momento a noi serve solamente cercare di fare i punti, e oggi, anche se noi dovevamo tutti i costi vincere, ma il pareggio sarebbe stato un punto d'oro. Ultima domanda, questo campo vi penalizza, visti i giocatori a disposizione? Guarda, io in settimana ero più preoccupato delle condizioni del campo, si scivolava troppo, oggi posso dire invece che la partita è stata interpretata bene, le dimensioni del campo potrebbero influire, però in questo momento forse è meglio giocare qua, la nostra roccaforte deve essere il campo d'inizio.